Musica Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dopo una fine di febbraio contraddistinta dall'alta pressione che ha portato temperature primaverili ma anche il ritorno delle nebbie in pianura vedremo un inizio di marzo contraddistinto dall'insabilità quindi il ritorno delle precipitazioni e la neve in montagna sul nord-ovest ora vedremo nel dettaglio le previsioni stagionali di Giorgio Di Francesco poi sarà la volta del dottor Teodoro Giorgiadis del CNR Istituto di Micrometeorologia ci parlerà della micrometeorologia urbana segnaliamo inoltre che l'11 marzo 2017 si terrà la sesta giornata della meteorologia all'aeroporto di Cuneo Le Valdigi dalle 9 sarà possibile assistere al volo del cuore un volo di 4 mongolfiere nei cieli dell'aeroporto inoltre durante la giornata si susseguiranno diversi relatori della Granda e sarà possibile scoprire aziende innovative nel campo della meteorologia e delle tecnologie IoT ricordiamo che l'evento è gratuito aperto a tutti e il ricavato sarà devoluto alla ONLUS una mano per i bambini ben ritrovati amici con le stagionali in relazione al mese di aprile 2017 dal quadro di anomalie in sovrimpressione a livello europeo si evince in particolare nel corso del mese di aprile una zona di bassa pressione presente sull'Europa settentrionale sul vicino atlantico mentre l'aria fredda sarà presente ancora una volta sull'Europa orientale le basse latitudini si troveranno principalmente in un regime statico altopressorio con alcune brusche oscillazioni precedute da venti d'aria calda subtropicale e da fondi di matrice meridiana avremo un mese sicuramente abbastanza seccitoso sull'Europa meridionale dal punto di vista climatologico per quanto concerne il comparto italiano avremo un mese di aprile sicuramente sopra le medie del periodo in maniera leggera o moderata su gran parte della penisola con una carenza idrica generalizzata forse leggermente più attenuata sulle regioni meridionali un contesto spesso altopressorio e mite con anche delle risalite d'aria calda di matrice subtropicale a carattere prefrontale seguita però anche da fondi meridiani dà le caratteristiche sicuramente opposte anche con bruschi cali delle temperature ovviamente questi passaggi daranno delle precipitazioni localmente intense dal punto di vista climatico per quanto concerne la mappa delle anomalie evidenti dalla grafica del CFS su elaborazione di alta meteo ci mostra proprio una fase decisamente primaverile alle basse latitudini con alcuni rischi meridiani altalenanti Siamo con il dottor Giorgiadis ricercatore dell'istituto di biometeorologia del CNR abbiamo parlato di micrometeorologia urbana ci spiega meglio di cosa si tratta? Sì, è l'interazione fondamentale che avviene tra l'atmosfera e quello che è il costruito siamo in presenza di una urbanizzazione che porterà nel giro di pochi decenni tutta la popolazione a dover essere considerata una popolazione di cittadini cittadini non per il godimento dei diritti cittadini perché tutta la popolazione abiterà nelle città e quindi significa che sarà il luogo critico dove le persone potranno provare benessere oppure disagio al vivere all'interno di questi ambienti Anche dal lato dell'inquinamento atmosferico Il concetto di benessere, benessere fisiologico non parliamo del problema psicologico il problema delle balie stiamo parlando proprio del problema di come costruire una città resiliente dove al suo interno le persone, la popolazione in particolare le fasce deboli potranno vivere una vita dignitosa quindi sentirsi bene da un punto di vista termo-igrometrico ma anche quello che riguarda l'inquinamento cioè respirare meglio quindi costruire una città che viene studiata diciamo che la città non può essere ricostruita dall'inizio non esistono più città di fondazione queste esistevano in altri periodi della nostra storia e quindi però cominciare a pensare di costruire un grande piano dove pian pianino la città si struttura in modo da riuscire a rispondere a queste esigenze un ambito davvero interessante parliamo della certificazione della professione del meteorologo sì, è stata un'idea è nata sulla scorta della norma uni per i fisici che dovrebbe concludersi tra pochi giorni e sulla base di questa norma che quindi genera una figura professionale che è quella del fisico si è pensato di mettere a punto all'interno della norma uni dei fisici anche uno schema che riguardasse direttamente la professione del meteorologo in realtà questo schema è più ampio di quello dei fisici perché all'interno di questo schema possono partecipare anche altre figure professionali che possono essere quello di ingegneri, delle scienze ambientali e questo per il meteorologo esiste poi all'interno di questo schema anche la figura del tecnico meteorologo lo schema è completato anzi abbiamo già certificato una trentina di persone tra fisici, tra tecnici meteo e meteorologi e si spera che continui questo schema perché è una richiesta del paese almeno tutti dicevano che c'era bisogno di certificare una figura e la certificazione significa che l'ambito delle competenze acquisite delle persone sono reali e sono tre tipi di competenza sono la competenza formale quindi gli studi che si sono fatti all'università o all'istituto superiore dipende dalla figura competenze informali ovvero quelle che la persona ha maturato seguendo dei corsi venendo a giornate come questa ad esempio e poi quella che è l'attività lavorativa l'onze job quindi competenze che sono maturate lavorando effettivamente nel settore questi tre insiemi di competenze formano la figura e dovrebbe essere una figura di garanzia quindi insieme a questo c'è un codice deontologico che deve essere firmato e questo codice deontologico è la parte stringente di fronte alla polemica dei click delle bombe d'acqua di queste cose strane che nascono come nomi la firma del codice deontologico ti obbliga a utilizzare una terminologia una comunicazione nei confronti della popolazione che sia scientificamente corretta e quindi questo dovrebbe in qualche modo limitare è una certificazione volontaria quindi chi usa queste cose per i click può anche non certificarsi però dovrà spiegare alla popolazione perché lui non è certificato e gli altri sì iscriviti al canale grazie a tutti